Il rugby moderno richiede sempre di più cura nei dettagli, richiede una grande cura anche degli aspetti che vanno oltre al campo di gioco e quindi che vanno oltre la palestra, che vanno oltre la cura dell'aspetto tecnico. Ci sono delle persone che cercano di curare, dei tecnici preparati in questo, che cercano di curare anche questi aspetti. Il riposo senza dubbio è una parte fondamentale della vita di un atleta, considerato importante quanto l'allenamento e per questo va curato anche questo nei minimi dettagli. Personalmente per performare nel modo migliore, devo riposare dalle 8 alle 9 ore a notte. Ovviamente nei periodi di carico più intenso o nei giorni che precedono la partita mi permetto anche di fare qualche pisonino nel pomeriggio. Ho la fortuna di usare il materasso e il cuscino Tecnogel. Grazie alla loro struttura, al particolare gel, mi permettono di riposare e di recuperare al meglio dopo intensi allenamenti o magari stress derivati da viaggi e da partite. Ho migliorato la qualità del sonno e del riposo e questo mi permette di farmi trovare pronto agli intensi allenamenti e agli intensi impegni che ci sono durante l'anno.